Amici cari, amici cari, buonasera, chiedo scusa del leggero ritardo, abbiamo qualche ritardo, perché? Perché stavo riguardando, rivedendo le normative su questa follia, ormai non sappiamo più come definirla, abbiamo avuto la notizia tutti quanti, siamo sgomenti, siamo sgomenti, io ancora sono scioccato, nonostante sapete con quale coraggio quotidianamente affronto la vita, queste vicende, devo dire, spesso mi stupisco del mio coraggio, ma del vostro coraggio, perché voi siete ancora più coraggiosi di me, perché io in questo turbinio sono distratto, quindi ho la fortuna di dover pensare mille cose e penso meno alla moralità, all'etica, a quello che ci sta accadendo, io ho 63 anni, ne ho passati tutti i colori nella mia vita, ho sempre lottato per sopravvivere, ma una cosa così folle non l'ho mai neanche immaginata, penso che questo momento sia un momento forse peggiore di quello che hanno vissuto i nostri nonni durante la guerra. Ebbene, come avete saputo, ieri, oggi, stamattina il Presidente del Consiglio ha lanciato la bomba altri sei mesi di stato emergenziale, altri sei mesi di carcere psicologico, altri sei mesi di mascherite, di obbligo, di obbligo, di TSO, di coercizione, di strappamento, vilipendio della Costituzione. È una cosa sconvolgente. Io, personalmente, ancora mi devo riprendere, non avrei mai immaginato arrivassero a tanto. Ve lo devo dire, ve lo dico con il cuore, non avrei mai immaginato che si potesse arrivare a tanto. Anche perché, vedete, allora ho tardato perché mi sono ripreso la normativa. Mi sono ripreso la normativa. Vedete, loro, guardatelo, vediamo insieme, il 31 gennaio 2020, eccola qui, guardate, fecero la delibera del Consiglio dei Ministri, dello Stato emergenziale, lo vedete, in conseguenza, c'è scritto, lo potete leggere, ve lo faccio, ecco, lo potete fotografare, in conseguenza dell'allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lanciò l'emergenza, loro con questa base lanciarono lo Stato emergenziale di sei mesi. Adesso, guardate, le leggi, le leggi sono una cosa importante, qualcuno pensa che i nostri governanti stiano così, scherzando, prendano a bagli, no, sono lucidissimi e sono organizzatissimi. Lo Stato emergenziale è previsto, ve lo faccio vedere, perché dobbiamo avere la cognizione, vedete, vince chi conosce meglio le leggi, vince chi è più colto. Perché riescono a rapire i bambini, alle mamme, ai papà con così tale facilità? Perché vanno a scegliere le famiglie più povere, le meno colte, quelle che non hanno l'avvocato bravo, quelle che non hanno lo psicologo bravo, le famiglie più semplici, che non sanno come difendersi, che hanno paura dello Stato, lo Stato dice state zitti, non vi preoccupate, vi rideremo i figli, basta che non urlate. E quelli sanno zitti, poverini, perché non sanno come fare, perché non sono quelli di consiglia. È la norma su cui si fondano è questa, guardiamola insieme, ve la spiego. Eccola qua, decreto legislativo del numero 1 del gennaio 2018, codice della protezione civile. Vedete, questo è un semplice codice, per cui dovrebbe essere esclusivamente un regolamento di come funziona la protezione civile. Guardate, guardate come si riesce a, perdonatemi la parola, a fregare un popolo. Guardate, ecco, articolo 24, eccolo qua, lo vedete? Decreto legislativo, articolo 24, e voilà. La durata dello Stato emergenziale di rilievo nazionale non può superare 12 mesi, 12 mesi, ed è prorogabile di altri 12 mesi, 24 mesi. Due anni di Stato emergenziale, due anni di poliziotti col termometro sulla nostra fronte, con le mascherine, con le multe, con i bambini a scuola con le mascherine, con i moduli, con i tamponi, con i... Ma non stiamo scherzando. Lo Stato emergenziale, primo, deve essere assolutamente di carattere nazionale, e in questo caso di carattere nazionale non c'è nulla, non c'è nulla. Abbiamo un caso, in una regione un caso, non c'è più nessuno negli ospedali, non c'è più nessuna rianimazione. Ancora non ci dovete, ancora ci dovete far capire come muoiono le persone che non sottoponete autopsie, allora vedete, ecco perché si sta mantenendo questo stato di allerta. Ecco, Focolai, io voglio ricordare, voglio ricordare a tutti, me lo ha ricordato qualche minuto fa l'amico avvocato Lillo Musso, che 20 giorni fa, ricordatevi, quando il Napoli ha vinto non so quale partita in cui a Napoli decine di migliaia di persone si sono abbracciate e baciate nelle piazze, avete visto delle, una sommossa popolare in cui decine di migliaia avevamo detto, avevamo detto, sono passati 25 giorni circa, fra 15 giorni mezza Napoli deve stare dentro un ospedale, ovvio, non c'è stato un caso nuovo, uno. Allora, che significa? Questa è una prova scientifica, questa non è filosofia, è una prova scientifica, significa che non esiste più, almeno la fase patologica non esiste più, potremmo essere positivi, l'abbiamo detto mille volte con un tampone che ormai non serve a nulla, perché non conta quanti sono i virus, se sono quelli aggressivi, non ci dicono che tipo di virus e quanta carica virale c'è nel nostro corpo, ecco a che servivano, avete capito che servivano questi articoli stampa? Altri sei mesi e altri poi dodici mesi di stato emergenziale. Ebbene, amici, questo è il vero dramma, questo è il vero dramma, allora non è più uno scherzo, non è più un gioco, non è più uno sbaglio, non è più la voglia di essere, come possiamo dire, preservarci, no, ormai c'è una volontà, una volontà cieca di metterci sotto una cappa e fare di noi ciò che vogliono. Nel frattempo, ieri il ministro degli interni ha rilasciato un'intervista in cui ha detto, il ministro degli interni, sto vedendo gente sempre più povera e negozi sempre più chiusi, sono allarmata. Ieri? Ieri? Ma perché non andate per strada, non vedete quello che sta accadendo? Ma non lo vedete? Ad ottobre la gente avrà fame. Chi ferma? Un padre che non ha più da mangiare per i propri figli, che ha fallito, che ha chiuso il negozio, che ha chiuso l'impresa? Chi lo ferma? Voi con un altro decreto? Che farete? Il carcere che scende per strada? Il TSO a tutti i cittadini italiani? Rimarrete voi 20, 30, 100? La casta? Ma chi lavorerà più per voi? Questo è un grave, grave, grave sempre peggiore. Allora ho chiamato in questo momento tutti gli amici disponibili, io mi rivolgo a tutti gli avvocati, a tutti i costituzionalisti, da domani organizzeremo, ve lo faremo sapere già lunedì, una serie di, non petizioni con le firme, una serie di bombardamenti mediatici, faremo migliaia, centinaia di migliaia di mail a tutte le istituzioni. Vogliamo che i costituzionalisti, il professor Cassese per primo, da domani scrivino al Presidente della Repubblica di non firmare questo maledetto decreto legge che ci bloccherà per altri sei mesi. Perché è legittimo? Perché non c'è nessuna base scientifica, nessuna. È una questione di legittimità. Il decreto emergenziale esiste esclusivamente se un paese, interamente un paese, viene soverchiato da un'infezione, da un cataclisma, da un terremoto intero, altrimenti ci sono le regioni. Facciano le regioni di loro decreti, regione per regione. Se ci sono mille morti lo devono fare, ma se non ci sono morti, se non ci sono intubati, ma perché? Perché dobbiamo stare in uno stato di emergenza nel Lazio senza un morto? In Puglia senza un morto? In Sicilia senza un morto? Perché? Perché serve? Serve la K? Noi non lo consentiamo. Allora, amici miei, però ci dovete aiutare. Vi assicuro che le nostre forze non bastano più. Ci dovete aiutare, nel senso che dobbiamo organizzarci, dobbiamo andare in Parlamento a Strasburgo, dobbiamo andare davanti alla Corte Europea di Giustizia. Allora organizziamoci, organizziamoci. Ovviamente ci serve anche un supporto, un supporto anche economico, dobbiamo aiutarci da questo punto di vista tutti, perché non possiamo rimanere a fare un ricorso al TAR. Sì, lo facciamo, lo stiamo predisponendo, lo sapete. Mi avete mandato ieri migliaia di partecipazioni a questo ricorso e vi ringraziamo, stiamo organizzando, quindi già lunedì vi diremo dove iniziare ad andarlo a firmare. Ma ci dobbiamo organizzare, dobbiamo spostare la nostra battaglia giuridica a livello internazionale. Dobbiamo andare, una delegazione di noi, dobbiamo organizzarci, mi rivolgo anche Alice Razzo che interviene quotidianamente a livello internazionale. Non basta più, non basta più lo sforzo di noi singoli, dobbiamo elevare la nostra battaglia perché uno stato emergenziale in Italia per altri sei mesi ci distruggerà completamente per tutta la nostra vita. Allora ci rivediamo lunedì, spero di darvi ulteriori informazioni. Domani io sarò a Napoli con il professor Bacco, il professor Tarro e il magistrato Giorgianni. Faremo ulteriori verifiche giuridico-scientifiche di quello che stiamo organizzando. Lunedì vi farò sapere tutto quanto. Nel frattempo continuate a mandare professori, docenti, direttori, nonni, genitori che volete fare ricorso al Tarro. Ricordatevi, la mail è sempre semplice, trovate la somma su internet, avvocato polacco, chioccilagmail.com. Vi ho dato ieri anche la possibilità di dare dei contributi a un'associazione, a una Ollus che ci sta supportando. Rimate un attimo che vedo se ritrovo il comunicato di ieri in cui vi davo queste notizie. Vediamo un attimo. ma ecco non dobbiamo mollare un attimo. Dobbiamo essere tutti quanti pronti e soprattutto ci dobbiamo organizzare ancora di più. Ancora di più. Stiamo insieme al collega Lillo Musso organizzando una rete regionale anche di avvocati che ci diano un supporto. Ma lunedì sicuramente scriveremo insieme a voi, ve lo diremo, lo faremo insieme e vi daremo le mail di tutti gli organismi costituzionali per invadere tutte le sedi costituzionali, istituzionali, istituzionali con una legittima, sacrosanta, costituzionale protesta dei cittadini italiani che non possono permettersi ancora sei mesi di stato emergenziale. Vi abbraccio, buon weekend, ci vedremo lunedì con un sacco di altre novità da questo punto di vista. Ciao.